buongiorno a tutti siamo qui a ZOMARC novembre 2021 da maggio 2019 non facevamo più questa grande importante manifestazione del nostro settore dei prodotti per animali da compagnia siamo a Bologna e finalmente ricominciamo a vivere una sorta di normalità con questa manifestazione che ha visto anche molta partecipazione sia di espositori che di visitatori noi al nostro stand abbiamo avuto tanta affluenza abbiamo presentato anche tantissime novità abbiamo presentato il nostro nuovo catalogo 2022-2023 oggi in occasione della ZOMARC Bologna abbiamo presentato tante novità tra cui la nostra nuova linea di giochi ecologici abbiamo presentato Vita Natural la nuova linea di snack naturali innovativa il pesciolino che fa impazzire tutti i gatti un gioco interattivo stupendo tutta la nostra linea Comfort abbiamo presentato tantissime novità siamo orgogliosi di questo lo facciamo sempre Vita Craft è un'azienda innovativa che fa dell'innovazione il suo punto di forza andiamo sempre incontro alle esigenze dei nostri tanti consumatori amanti dei nostri amici a quattro zampe le esigenze crescono e Vita Craft le vuole soddisfare sempre ringrazio tutti i miei collaboratori tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo stand per la realizzazione di tutte le nostre attività che facciamo ogni giorno che ci danno ragione e successo perché i risultati confermano questo un saluto da Bologna e speriamo di rivederci presto con tutti voi